buona sera mi hanno appena cacciato Michele però ti saluto no no stai stai eh mi hanno cacciato grazie Emiliano grazie a te mi metto nel background devo andare per forza era una scommessa Michele c'ha una consulenza da Renzi esatto magari anche l'ultima volta che mi ha chiamato gli ho detto ma dai Matteo assumi Delli bravo Diglio ma glielo ho detto che non mi ascolta mai come quando gli dissi vieni a fare fare ma c'ha un bravo professionista a fianco c'ha un bravo professionista a fianco c'ha già un bravo professionista a fianco a fianco si dici è per quello che è arrivato al 2% dal 40 cioè diciamo bravo in certe cose e altre magari ma sei sicuro che non lavori per gli altri no 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 beh Michele Michele sei sicuro che siamo al 2 1.80 ho rotto dato per cortesia con i numeri interi si capisce meglio oh ragazzi hanno pagato io vi saluto buona live ciao Delli buona serata grazie ciao Delli ragazzi io vi saluto è stato un piacere grazie Ciro per essere passato se vuoi tornare ci fa piacere ti sei perso tante di quelle cazzate Michele questa oretta qui mi sono rendamente grato sì sì Michele due ore di nulla ciao Ciro alla prossima ciao 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 sono stato trattenuto dopo la lezione da dei colleghi che volevano discutere le sorti dell'economia gentile senti noi invece stavamo discutendo prima ho chiesto un parere a Costantino Mirko diciamo aveva anticipato che secondo lui ci sarebbe stato questo scontro nel Donbass quindi rifaccio la domanda che ho fatto anche agli altri secondo te una volta terminato lo scontro indipendentemente da come dovesse terminare questo scontro in Donbass la guerra finirà come dicono alcuni analisti entro il 9 maggio che è una data storica per la Russia oppure si va avanti e ci sarà una controoffensiva verso Kiev e altre città più al centro dell'Ucraina e la chiave sta indipendentemente da come finirà la continuazione o meno non è indipendente dipende dai risultati sul campo si vede no se avesse vinto la prima settimana come platialmente speravano la guerra sarebbe finita e ci sarebbe la famosa pace eterna per moltissimi non hanno vinto hanno continuato poi è andata a buca hanno detto beh cambiamo ma chi lo va a capire adesso di sicuro faranno quello mi sembra ovvio no? io mi aspetto uno giorno o l'altro una pioggia di missili su tutta l'Ucraina soprattutto sulla parte interna da cui possono arrivare i rifornimenti perché ovviamente se non sono pazzi gli ucraini avranno spostato un tot di come dire backup logistiche eccetera fuori dal fronte principale qualche calcolo lo sapranno loro di come rifornirli suppongo che i russi lo sappiano quindi suppongo intendano cercare di cancellargli tutto cercano di costruire una specie una maniera c'è la famosa storia di circondarli una maniera di circondarli e se non riesci a farlo con le armate lo fai facendogli terra bruciata fra loro che combattono al fronte e chiamiamole così le retrovie quindi io mi aspetto il bombardamento sull'aeroporto di Miepre l'altro giorno mi sembra un sintomo poi chi lo sa qua bisogna chiedere ai pacifisti italiani teorizzatori della è tutta colpa della UE agli USA loro che hanno un contatto diretto con Putin sanno per fare la pace e devono dirci dirci loro le condizioni a cui lui smette volevo chiedere a Mirko se conosce le posizioni di Lucio Caraccio perché io non ho ben capito insomma ogni tanto lo criticano ogni tanto dice delle altre cose tu lo segui un po' l'hai seguito sì io seguo l'Imes sono anche abbonato quindi ma sai loro hanno una posizione analitica che a volte va da una parte a volte dall'altra un po' come la difesa online non è che avevano azzeccato molto alcune previsioni cercano di stare un po' sul vago secondo me da quello che ho capito io però sai spesso fanno approfondimenti anche storici culturali proprio della cifra come direbbe Fabri dei vari popoli e quello ci sta sulle questioni militari un po' meno io li vedo un po' più ferrati sulle questioni proprio di geopolitica che non sulle questioni militari in sé quindi non lo so qual è la loro analisi alla fine su come andrà a finire sai alla fine se fai tante analisi magari una la zecchi quello il discorso su questa situazione il bombardamento che diceva Michele prima non è in quell'ottica lì è in ottica di preparazione per lo sviluppo dell'offensiva che avverrà tra due branche e praticamente l'idea è di isolare il fronte del Donbass io non credo che a questo punto loro hanno la capacità per colpire il resto del paese in maniera massiccia la loro riserva di missili si sta deteriorando a una velocità incredibile avevano 5500 stimati ne hanno già utilizzati circa 1200 che per un mese di guerra consumare quello che hai prodotto negli ultimi vent'anni beh è abbastanza significativo e quindi si limiterà tutto a questa offensiva a cercare di accerchiare gli ucrani dargli una stoccata tale da portarli al tavolo della pace in una posizione di estrema debolezza però se falliscono beh la posizione di debolezza allora l'avranno loro e da lì deteriorerà tutto in una guerra lunghissima dal mio punto di vista perché nessuno dei due è in grado di sconfiggere l'altro e qui quindi noi abbiamo fatto anche dei scenari tra l'altro in una lunghissima nottata su Libri Oltre da mezzanotte alle 6 del mattino proprio sui possibili scenari uno era quello del una soluzione tipo Svizzera e tipo Austria che è un possibile scenario l'altro è una zona tipo Corea perché alla fine tra l'altro oggi il cancelliere austriaco ha visto Putin e noi ha stretto la mano lo so sembra noi abbia stretto la mano sei muto Michele? no volevo solo dire che sulla questione militare la stessa cosa che ho detto io io non ho detto che vogliono invadere tutta l'Ucraina ho detto che vogliono accerchiare siccome non ci riescono con le truppe la faranno isolando quindi bombardando la parte diciamo a ovest del del Donbass ma non Leopoli cioè Leopoli è proprio per impedire che ti arrivi i rifornimenti sì anche perché hanno un vantaggio su quella zona perché è molto fuori dal sistema informativo che gli possiamo dare noi sai gli AWACS e tutti quelli che giravano certo lì non si copre e anche gli ucraini lì non hanno delle grandi capacità antiere quindi potranno a meno che non si decida di muovere il culo e metterci due aerei che io continuo a ritenere sia un rischio anzi visto che vogliamo salvare vite di per sé francamente io credo che la migliore di salvare vite sia quella non so se è già uscita questa cosa ma sembra che una fonte all'interno dell'esercito ucraino oggi ha rilasciato i numeri delle perdite ucraine quelle vere e sono abbastanza inquietanti cioè rispetto alla propaganda che veniva fatta questa fonte che è accreditata da tutti come reale e all'interno da dei numeri che io ne parlerò stasera in una live poi magari domani ne approfondiremo anche con Caracciolo ma è molto al di fuori di quello che finora veniva ventilato è ovvio che noi si pensava che loro avessero avuto 8 o 9 mila morti questo è quello che davano quasi tutti come cifra più o meno papabile o credibile circa 15 17 mila russi in realtà le perdite ucraine stimate sono molto ma molto ma molto superiori ora se mi date un secondo vi trovo questa informazione così ve ne leggo qualcuna perché siamo veramente 31.933 tra 17.909 feriti uccisi 12.711 feriti 1313 catturati ma tutti io sono militari 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 la fonte è armed force of ukraine la fonte è ribar che è un sito di analisi indipendente dicono the projected loss of ukraine national guard and state border service are given according to insider information from the Ukrainian general staff io le ritengo più credibili che quelle che davano più o meno una parità alla fine se vai a vedere che per i russi è comunque una sconfitta parliamoci chiaro perché una parità per il secondo esercito del mondo del combatto contro il 35esimo e avere un rapporto di parità sulle perdite è vero che quelli sono difensori di quelli attaccanti ma non è comunque favore alla russia sui tank ne hanno persi 449 più o meno un livello di pari 481 i russi sui veicoli sono 1364 tra i combat veicoli quindi parliamo di blindati e cose del genere poi a questo ci aggiungi quelli per l'affanteria le antiere e tante altre alla fine vediamo delle perdite per gli ucraini perché sono molto simili a quelle russe per gli ucraini sono devastanti però scusami un attimo Mirko ma noi stiamo parlando sempre di militari che comunque sono militari o civili che sono diventati militari nelle ultime 5 settimane io penso che vuole intendere difesa territoriale no no tutto ma come si chiama l'esercito National Guard RIBAR R-Y-B-A-R o Y RIBAR ok ho capito no perché RIBAR è la Rhode Island Bar Association comunque questa cosa sta rimbalzando un po' ovunque insomma c'è una fonte all'interno del general staff ucraino che ha tirato fuori questi nomi poi sono da verificare però mi sembrano abbastanza realistici perché era impensabile che avessero perso quello che avevano dichiarato e avrebbero la forza comunque di mi viene detto quello che rimane che RIBAR è un canale che spread fake news anche fonti russe cose del genere c'è un po' di tutto lì dentro come da noi tutti i canali twitter hanno una fonte di qua una fonte di là bisogna verificarle però dal punto di vista del senso una parità di perdite mi sembra abbastanza la red cross sto cercando informazioni insomma ma comunque non c'è nessun dubbio che ovviamente abbiano perso molto dubito che le perdite siano paragonabili perché se penso alla forma degli scontri è molto improbabile a meno che non con 10 mili non c'è alcuna evidenza zero non c'è visto nessun pezzo credo che se i russi avessero avuto visto la quantità di propaganda che fanno se i russi avessero avuto l'opportunità di infatti quelle poche volte che l'hanno fatto quando hanno affondato le navi ucraine all'inizio della della guerra hanno reso subito pubblico quando le hanno bloccate pure quando hanno preso il centro di addestramento vicino alla Polonia pure tutte le volte che hanno colpito grosso hanno dato plentiful evidence per riuscire a ammazzarne 15 mila devi avere cose simili a quelle che abbiamo visto degli ucraini e cioè situazioni in cui imbottigli la colonna e fai e fai marmellata oppure quando hanno tirato giù i due eri paracadutisti all'inizio della guerra che ne ammazzi 200 in un colpo se avessero avuto successi di questo tipo mi sembra ovvio visto il livello di propaganda che l'avrebbero mostrato quindi io non ho alcun dubbio che gli ucraini abbiano sofferto perdite sostanziali tra i civili ovviamente ma anche tra i militari però quell'ordine di grandezza richiede che ci siano stati dei combattimenti in cui c'era una massa di ucraini che andava a sbattere addosso a un fuoco russo la tattina mi sembra averlo io seguo entrambi guardo sia i video che vengono buttati fuori dai russi sia quelli dagli ucraini e dal mio punto di vista c'era praticamente una parità nel senso per ogni video di carri armati distrutto ucraino dall'altra parte ce n'era uno russo ogni volta che catturavano un gruppo di ucraini dall'altra parte usciva un video dei russi no no non mi dispiace devo contradderti non c'era costituzionalmente questa evidenza e tra l'altro se così fosse non si spiegherebbe perché si sono ritirati precipitevolissime volmente lasciando tutto sul terreno perché se fosse pari e patta avevano un vantaggio numerico sostanziale non l'hanno mai avuto il vantaggio numerico Michele come no certo che ce l'hanno no insomma attento nella zona di Kiev avevano il vantaggio se la cosa era pari e patta il grosso dell'esercito ucraino non era lì il grosso dell'esercito ucraino è in parte indietro in parte nel Donbass se parli di qualità è una cosa se parli di numeri è un'altra se tu vai a vedere la formazione di brigate ucraine intorno a Kiev superava il numero degli attaccanti non mi risulta Michele una brigata è formata di elementi non mi risulta se fosse pari e patta non c'era alcuna ragione di ritirarsi con quella rapidità e lasciando i disastri comunque vedremo col tempo se la fonte è questo Raibar ho già visto abbastanza per sapere che è praticamente un organo russo vedremo ma scusate molto probabilmente che veramente si tratta di includere la difesa territoriale perché loro si 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 è inclusa la difesa territoriale considerati la difesa territoriale si spiega perché loro hanno soltanto una settimana di addestramento e ovviamente non possiedono dei mezzi che possiede uno dell'esercito loro hanno soltanto l'arma e al massimo antiproiettile che non è detto e poi giustamente ad esempio a Kherson io di persona conosco 20 della difesa territoriale che sono stati proprio sacrificati soltanto con dei Molotov che ci hanno attaccato tipo la colonna dei carri armati e c'erano pezzi di carne che li raccoglievano ovviamente considerando la milizia territoriale quindi le truppe ah allora in questo caso giustamente si spiega perché in confronto di un esercito russo che ha le perdite esercito russo si ha la polizia c'ha Omon giusto ma anche Omon in confronto di difesa territoriale sono più preparati perché questi ragazzi va fatta un'analisi del tipo le perdite russe quindi 17.000 sono esercito russo esercito le perdite ucraino includono anche veramente l'uomo a cui gli è dato una K47 e gli hanno detto devi difendere la tua città e questo già cambia completamente in percentuale sui professionisti ovviamente questo ha molto più valore in percentuale però sono alla fine se dai a un uomo una divisa le dai un fucile loro li contano tutti in queste perdite qui è una sostanziale parità considerando che i russi hanno cominciato con 200.000 uomini anzi di meno 188.000 di cui circa 130-140.000 combattenti mentre gli ucraini dall'altra parte ne schieravano dai 220-240.000 poi alzati fino a circa 300.000 incluse le truppe territoriali beh un esercito attaccante che attacca con nessun vantaggio dal punto di vista numerico alla fine è sempre una sconfitta russa 17.000 soldati professionali a fronte di non lo so 8-9.000 ucraini e il resto milizia territoriale è comunque una sconfitta ma anche soltanto per il peso specifico in campo dei due eserciti rimane comunque una sconfitta però è molto distante dalle cifre che fino a prima uscivano diciamo poi sai tutte queste fonti vanno verificate nel tempo eccetera vanno prese con le pinze però mi sembrano dei numeri congrui con la situazione militare non sono delle cifre spaventose l'unica cosa in questo caso che mi preoccupa che purtroppo si comincia a percepire che in Ucraina adesso si stanno cominciando a risvegliarsi quei sintomi di veri ucraini e cominciare a combattere dentro per la politica giusto e a dare le colpe per le vittime eccetera e questa grossa cifra di morti della difesa territoriale secondo me si ci butterà sulla colpa di anche aristovic stesso ad esempio brutto brutto perché la gente si sta cominciando a stancarsi poi è interessante parlare del nuovo generale che Putin ha deciso che dovrà dirigere l'offensiva cioè Alexander Dvornikov che era il generale che aveva gestito l'operazione russa in Siria in Siria esatto ci sono due problemi è vero che era un ottimo generale dico in faccende militare poi era estremamente spietato l'altro problema è questo lui non ha mai gestito un esercito di questa di queste dimensioni cioè l'operazione che andrà a dirigere nel Donbass è nell'ordine di grandezza 20 volte superiore a quello che ha gestito in Siria quindi non detto che un generale che ha gestito delle operazioni così piccole con estrema superiorità aerea e missilistica è una garanzia per quest'altra operazione perché è la prima volta che si trova a condurre un'operazione così complicata e con così tante truppe e siccome io ho visto proprio ieri le colonne delle repubbliche separatiste in questa offensiva verranno incluse anche anche i due eserciti delle repubbliche separatiste che sono tutt'altro che che buoni finora praticamente stavano soltanto a tenere le posizioni e questo è abbastanza significativo dal fatto che ai russi mancano elementi perché se sei costretto a utilizzare anche le repubbliche separatiste con i vecchi T64 vuol dire che ci butti tutto quello che hai praticamente vabbè staremo a vedere insomma io spero che non sia in grado di gestirla vediamo quello direi tutti tra l'altro Michele prima citava i pacifisti italiani no? io sono molto curioso di vedere il 25 aprile cosa faranno perché Lampi ha già messo queste belle grafiche con l'Italia ripudia la guerra no? per il giorno della liberazione che è una roba terrificante grazie scordandosi l'altra parte dell'articolo 11 vabbè ma perché in Italia è facile dimenticare io ogni volta che vedo mia madre è una discussione su sta storia quindi curiamoci beh ci sta ah ecco questa è una cosa interessante invece che ho iniziato ho detto a inizio live voglio un breve commento poi andiamo in chiusura da parte di Costa mi chiede però sembra perché anche qua non abbiamo ancora il documento ma la notizia è stata data anche da ISPI quindi non certo da i giornali italiani che onestamente io mi fido pochissimo però sembrerebbe che l'Italia abbia guadagnato 6 miliardi rispetto alle proiezioni quindi più 9 rispetto al 2021 di metri cubi di gas dall'Algeria cioè l'Algeria si è impegnata a fare praticamente massimo ma quella è una bella cosa cioè cambia tutte le prospettive no? no non cambia tutte le prospettive rende la transizione è un pochino meno dura sì sì certo sì quello che dicevo ma era l'obiettivo guarda Draghi Draghi l'aveva detto durante la conferenza stampa di 15 giorni fa non è andato a firmare sì ha firmato signore scusate della mia ignoranza ma io non mi sono mai interessato vorrei sapere ma qual è la percentuale di gas russo entra in Italia 28 miliardi di metri cubi su 70 28 su 70 tipo il 40% in Europa 155 miliardi di metri cubi entrano dalla Russia dalla Russia eh sono un bel po' perché ne esporta tipo 3,40 mica una cosa di questo non vorrei dire una stupidata non so quanto ne esporta in totale però ricordo 3,40 una cosa di questo tipo fai conto che tipo è una quota cioè ma considera che noi importiamo anche tipo il 37% del petrolio cioè sull'import russo il 37% è una cosa enorme a caso se qualcuno è difficile di fare DIY cambiamento di caldaia da gas a pellet ad esempio ah eh oddio è difficile la vedo d'ora improvvisare milioni di tonnellate sul riscaldamento posso dire a pellet non facciamoci il mento a pellet no no ha fatto anche i miei perché hanno perché noi viviamo in una zona protetta insomma dal punto di vista paesaggistico quindi non possiamo avere il metano quindi abbiamo sia la cisterna che trae le stufe a pellet posso garantire che poi fai ancora il petrolio e vai ancora col gasolio un pochino ragazzi colgo l'occasione e vi saluto intanto io prima di andare in chiusura prima di andare in chiusura visto che la chat me la sta chiamando ecco era un po' che non parlavi Luca Matteo ci mancava ecco perché hai detto hai detto inizio live tu caro Luca Matteo che Michele ha detto un po' e lo sottoscrivi attenzione attenzione chi è che avrà ragione non so se sei andato a rivedere la live non credo perché avrai di meglio da fare io non avendo di meglio da fare sono andato a rivedere la scorza agora che Giovanna ha caricato su youtube e hai proprio te pensato Michele veramente tanto veramente tanto mi hai messo in bocca cose che non ho detto ad esempio che io abbia paragonato gli eventi che avevo citato non so se te le ricordi con l'invasione dell'Ucraina cosa che io ovviamente non ho mai fatto semplicemente partivo da là per fare una domanda tra l'altro quindi nemmeno ho detto la mia riguardo quelli e poi soprattutto hai paragonato perché partivi da là perché partire da là perché il mio ragione allora per una semplice per una semplice questione proprio comunicativa per dare un fier rouge comunque per dare un fier rouge per non proprio passare di palo in frasca perché lui collega delle cose fra loro collegabili e infatti ho collegato infatti ho collegato e allora perché colleghiamo queste cose ho visto che vuoi rappresentare sono bravo a recitare allora allora no vediamo te lo dico ho visto che ho pensato spiegami perché sei partito da là non hai ancora spiegato perché sei perdito da là se mi fai parlare Putin non era uno stinco di santo nemmeno prima di invadere l'Ucraina e come ho detto io all'epoca cioè all'epoca della scorsa settimana secondo me continueremo ad averci rapporti se rimarrà diciamo al potere anche una volta cioè torneremo ad averci rapporti una volta che la guerra sarà finita e sarà passato del sufficiente tempo quindi quello era il fier rouge diciamo ma ho citato altre cose tu ti sei ti sei concentrato solo tra l'altro su quella minore se vogliamo per quanto comunque una bruttissima faccenda cioè quella di Giulio Reggeni paragonandola paragonandola poi dimmi se questo paragone non è più abberrante di quello che tu pensi io abbia fatto a due poliziotti sul territorio italiano che stuprano una una turista o due turiste americane mi hai paragonato le due cose perché qual è la differenza li hai tirati fuori tu gli argomenti un conto un conto è se lo fa lo Stato una cosa un conto è se lo fa se lo fanno dei cittadini tra l'altro e tu ti evidenziai che lo fa cos'è lo Stato ma tu davvero tu vai in cerca di notte tu pensi di offendere me cioè io ti ho detto privatamente tu ti ritieni purtroppo molto più intelligente e molto più astuto di quello che sei e teorizzi la furbizia come pratica di interazione sociale io purtroppo non mi diverto molto però mi diverto a fare la parte di quello che ti ha due schiaffoni quindi se tu non sei in grado di capire le due parole a caso perché cerchi di imitare Delly Mello il quale già cerca di imitare altri tutti falliti in sequenza guarda che l'ultimo nella catena delle imitazioni più fallito di tutti quindi non lo so perché devo fare sta parte non sai che cazzo dire Luca Matteo allora spiegami mi è paragonato Giulio Reggeni mi è paragonato Giulio Reggeni un omicidio molto probabilmente eh realizzato con mandante il governo eh egiziano molto probabilmente lo sai provare lo sai provare lo sai provare non lo so provare però che l'ho statuto perché ti la stiamo in bocca penso che nemmeno tu sappia provare i morti che i morti a buccia siano stati fatti dai russi però lo possiamo io sì io sì perché l'evidenza è plentiful fra cui ciò addirittura l'annuncio di grazie ci sono evidenze che ci dicono che Giulio Reggeni è stato ucciso su un mandato dal governo è una domanda scusate dov'è la domanda non c'è nessuno la domanda è non credo che non c'è una domanda qual'è la domanda vi saluto vi saluto che ho da fare grazie ci vediamo vado anch'io vado anch'io non è che io devo l'andare purtroppo ciao Luca Matteo buona fortuna grazie ciao Michele direi che andiamo tutti è strano paragonare il caso di Giulio Reggeni a un massacro in Ucraina però ma non ho paragonato Matteo tu la senti visto che stiamo partiti col flame Matteo la senti ma Luca Matteo secondo me era meglio che rimanevi grida sopra gli altri secondo me era meglio che rimanevi zitto stava andando tutto benissimo ma no ma non mi ha dato l'altro lo stavo sento fino a mo ma poi Luca Matteo per noi ma i carabinieri non sono una forza di polizia dello Stato sì però sono hanno agito non in quanto carabinieri per quanto sia comunque assurda la vicenda certamente però non mi puoi paragonare quella che io ho paragonato insieme ad altre cose scusa Luca ma in che senso non in quanto carabinieri i carabinieri fanno parte delle forze armate in Italia quindi sono in servizio sempre un conto è se il mandante è il governo perché quella persona viene considerata lo ho appena spiegato Luca un conto è se sono in servizio le persone prendono iniziativa con una divisa certamente ma non stanno rappresentando in quel momento lo Stato o semplicemente perché hanno una divisa non hanno non è che è stato il governo che ha detto scoprate quelle ragazze cioè c'è differenza ragazzi dai ciao non ci siamo ciao ragazzi e dopo queste cazzate di Luca Matteo ci vediamo domani alle 12 fai una confusione ciao ragazzi ho preparato una bellissima chiusura volevo chiuderla con un paio di filastroche di un mio cantante preferito ma penso la lascerò per la prossima volta quando saremo tutti uniti è un po' incentivo a collegarsi la prossima volta eh sì sicuramente grazie mille per grazie a te Danny è sempre un piacere averti averti qui ciao alla prossima ciao ciao Mirko